Inter Rugby, esordio eccezionale nel 6 nazioni, si gioca in casa con l'Inghilterra che è arrivata terza nell'ultimo mondiale di rugby, un primo tempo fantastico, chiuso avanti di 10 punti, dopodiché la rimonta inglese, si conclude 27-24 per l'Inghilterra, quindi solo 3 punti di scarto, questo è un orgoglio per una nazionale rinnovata, ricreata con l'allenatore argentino che purtroppo ha avuto solo 5 allenamenti per lavorare su questo gruppo, ma che sicuramente con grande entusiasmo ha dato la possibilità di vedere i risultati sul campo, soprattutto una prova e una prestazione davanti a 70.000 spettatori che ha dimostrato che la nostra nazionale, nonostante nel mondiale le ultime due partite contro Nuova Zelanda e Francia ha preso delle scopole, in un torneo importante come 6 nazioni sa reagire, ha voluto reagire e ha dimostrato che il movimento rugby in Italia sicuramente è di altissimo livello.